Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Dopo la cancellazione dell'aumento delle tasse aeroportuali, la regione Abruzzo e la compagnia irlandese Ryanair viaggiano sulla stessa scia e provano a capitalizzare il risultato con un rilancio. Una rosa di sette nuove destinazioni è stata proposta da Ryanair alla Saga, società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo e alla regione. Dunque Saga e Regione Abruzzo potranno scegliere le più interessanti da aggiungere a quelle già in essere. Si tratta di sette nuove rotte che sono queste. Dublino, capitale irlandese. East Midlands, vicino alla città inglese di Leicester, famosa per la vittoria nel campionato britannico, grazie alla guida di un allenatore italiano, Claudio Ranieri. Derby e Nottingham, a 60 chilometri da Birmingham, sempre nel Regno Unito. Valencia, terza città della Spagna. Marsiglia, in Francia. Vilnius, capitale della Lituania. Varsavia, capitale della Polonia. E Cracovia, antica città sempre polacca. Un altro tassello del centro storico torna al suo posto all'Aquila. E' tornata agibile, percorribile, quindi è aperto il tunnel di collegamento che dal parcheggio di Collemaggio arriva in Piazza Duomo. A darne notizia è il sindaco Massimo Cialente sulla sua pagina Facebook. Per ora, dice Cialente, non è ancora attivo il tapirulano per il quale si sta provvedendo ad eseguire gli ultimi interventi di manutenzione straordinaria. Si sta procedendo poi con i previsti collaudi e con l'acquisizione delle necessarie certificazioni, ma, assicura il sindaco, è questione di una o due settimane. Il Ministero non vuole il progetto di variante di strada dei parchi. Lo afferma Gianluca Vacca, del Movimento 5 Stelle, dopo la risposta ad una sua interpellanza urgente alla Camera. Ieri, rispondendo all'interpellanza urgente alla Camera dello stesso Vacca, deputato del Movimento 5 Stelle, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riferisce il parlamentare, ha di fatto certificato la totale mancanza di qualsiasi presupposto normativo e amministrativo al progetto di modifica del tracciato, confermando che gli unici lavori possibili sono quelli di manutenzione e messa in sicurezza dell'attuale percorso per un investimento totale stimato di circa un miliardo di euro. La raccolta differenziata a Chieti supera il 60%, raggiungendo picchi del 62% nei primi sei mesi del 2016. Diminuiscono quindi le tonnellate di rifiuti smaltiti in discarica. A trarne giovamento sono soprattutto le casse comunali. Lo dicono i dati diffusi in conferenza stampa dall'assessore Alessandro Bevilacqua e dall'ingegnera Nicola Della Corina di Formula Ambiente. Città controllata, città più sicura. E questa è la risposta al problema della sicurezza stradale nelle strade urbane del comune di San Giovanni Tiatino. Il comandante della Polizia Municipale, Lorenzo Di Pompo, dopo aver organizzato un presidio delle strade comunali e aver installato i box dissuasori di velocità speed control e dopo aver organizzato convegni nazionali nella città l'ultimo ad aprile, sul problema della sicurezza stradale secondo programmi e direttive dell'amministrazione comunale ha predisposto l'installazione di un sistema di rilevazione elettronica del passaggio con il rosso al semaforo. Gli incroci interessati sono due, è precisamente quello in via Poe all'altezza della metro e quello sulla Tiburtina prima di Auchan. I sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche saranno attivi 24 ore al giorno e preceduti da appositi cartelli di segnalazione. In vista della Notte Bianca dell'Adriatico che si terrà oggi a Pescara lungo le principali vie cittadine è stata disposta la chiusura al traffico in vigore dalle 18 alle 7 di domani mattina nelle seguenti strade via Solferino, via Zara, via Berardinucci nei tratti compresi tra la riviera e gli incroci con via Le Kennedy via Ragazzi del 99 dalla riviera Piazza San Francesco, via Sabucchi, via Esonzo, via Muzzi, via Mazzini dalla riviera all'incrocio con via Le Regina Elena, Corso Umberto, via Tassoni, via De Sanctis dalla riviera fino agli incroci con via Gramsci, via Dante, via Balilla dalla riviera fino agli incroci con via Riosto via Manzoni dalla riviera all'incrocio con via Don Minzoni, via Buozzi dalla riviera all'incrocio con via Verdi via Torati da lungomare Matteotti fino a metà del tratto viario, via Paolucci da via Le Riviera al tratto con via Puccini via Magellano, via Verrazzano da lungomare Colombo a via Taron de Revel, via Barnabei, via Antinoi da lungomare Colombo all'incrocio con via Tommasi, via De Titta da lungomare Papa Giovanni a via Figlia di Iorio via D'Annunzio da lungomare Papa Giovanni Paolo all'incrocio con via Scarfoglio, via Tosti, via Patini, via Braga da viale Primovere all'incrocio con via De Cecco, piazza Alcione, viale Primovere e via Celommi questi dunque i divieti in vigore lo ripetiamo dalle 18 di oggi alle 7 di domani mattina è possibile transitare in direzione nord-sud sul lungomare Colombo via Figlia di Iorio nel tratto compreso tra via Pepe e l'incrocio con via Redannunzio viabilità consentita anche sul lungomare sud tra l'incrocio con via Centommi e il confine con Francavilla al mare per quanto riguarda i parcheggi al parcheggio ex FEA è prevista l'inversione di ingresso e di uscita delle auto l'ingresso è dunque da via Manzoni e l'uscita da via Ugo Foscolo divieto di sosta nell'area parcheggio antistante all'hotel Holiday nell'area parcheggio tra l'incrocio di via Paolucci e le allungomare Matteotti compresa quella che si trova dietro alla distributore di benzina parcheggio a pagamento su tutta la strada parco dalle 18 di oggi alle 6 di domani mattina Adottato da Ernesto Dantino il parco Eleonora Duse di via Palma Pescara Dantino che ha ricevuto le chiavi del parco dal presidente del Consiglio Comunale Blasioni con altri 10 concittadini si è impegnato ad assicurare una corretta e regolare apertura e chiusura del traffico scusate del parco che nel corso degli anni è stato poco frequentato dal pubblico perché non era garantita la sua costante apertura Quarte di una corsia di Corso Umberto a Montesilvano è stata transennata interdetta alla circolazione dopo che si è creata una voragine Apparentemente ad aver ceduto sulla nazionale all'altezza di via Agostinone è una parte minima di asfalto ma dagli accertamenti sembra che sotto il manto stradale ci sia un cedimento più vasto L'area interessata è di circa 30 metri quadrati uno degli ingressi di un condominio che si trova in zona non è al momento utilizzabile sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano e Pescara E parliamo dei giochi olimpici che si sono aperti questa notte a Rio de Janeiro in Brasile L'Abruzzo sarà infatti presente in tre discipline con atleti nati proprio nella nostra regione Maria Enrica Spacca per l'atletica leggera Francesco Rifulvio nella pallanuoto e Paolo Nicolai nel beach volley Maria Enrica Spacca in particolare è nata all'Aquila anche se vive a Rieti ha collezionato vari traguardi medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo del 2013 di Mersin in Turchia sempre nella staffetta di velocità lunga bronzo ai recenti europei di Amsterdam in campo nazionale la Spacca ha conquistato numerosi titoli italiani all'aperto e indoor a Rio il calendario la vedrà scendere in pista sabato 20 agosto per le batterie eliminatorie e siamo alle previsioni del tempo oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo coperto fino a metà mattino molto nuvoloso in tarda mattinata temporale nel primo pomeriggio pioggia nel tardo pomeriggio è cielo da coperto molto nuvoloso in serata con temperature da 23 a 25 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo coperto fino a metà mattino pioggia nel resto della mattinata temporale nel primo pomeriggio e pioggia nel resto della giornata con temperature da 20 a 22 gradi e 20 da deboli a moderati domani si prevedono sulla costa cielo coperto fino a metà mattino molto nuvoloso dalla tarda mattinata al primo pomeriggio è coperto nel resto della giornata con temperature da 24 a 26 gradi e 20 moderati e nelle zone interne cielo coperto fino a metà pomeriggio molto nuvoloso nel tardo pomeriggio è coperto in serata con temperature da 19 a 22 gradi e 20 da deboli a moderati il mare è previsto poco mosso oggi e mosso domani era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio il microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne grazie e risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica e naturalità di Pesca